la terza costante nella storia dell'impero romano è la difesa dei confini di un territorio immenso che anche nella fase imperiale continuò a espandersi in europa orientale con la conquista nel primo secolo dopo cristo da parte dell'imperatore tiberio della pannonia l'attuale ungheria e della mesia l'attuale bulgaria l'espansione continuò nel secondo secolo dopo cristo con la conquista della dacia l'attuale romania da parte dell'imperatore traiano nel primo secolo dopo cristo viene completata la conquista della britannia meridionale già iniziata con cesare un secolo prima per il resto però gli eserciti furono per lo più impegnati nella difesa dei confini un esempio illustre di politica difensiva è il famoso vallo di adriano una lunga muraglia fatta costruire dall'imperatore adriano nel secondo secolo dopo cristo per proteggere il confine settentrionale della britannia antonino successore di adriano continuò l'opera di consolidamento dei confini costruendo un confine fortificato in germania tuttavia già verso la fine del secondo secolo dopo cristo diventò sempre più difficile e dispendioso dal punto di vista economico garantire la difesa dei confini marco aurelio il penultimo della dinastia degli imperatori adottivi gli antonini nel corso di 19 anni di guerre riuscì a fatica a contenere la pressione dei popoli esterni ai confini and that's all folks